Per conoscere Dio, per incontrarlo, bisogna rischiare e mettersi in cammino, perché un cristiano seduto, un cristiano quieto, non può conoscere il volto del Padre. Lo ha spiegato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata a Casa Santa Marta, commentando la lettura sulla creazione dal Libro della Genesi, e il Vangelo nel quale scribi e farisei rimproverano Gesù perché i suoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi. Ma chi non si mette in cammino mai... conoscerà l'immagine di Dio, mai troverà il volto di Dio. I cristiani seduti, i cristiani quieti, non conosceranno il volto di Dio. Non conoscono. Dicono Dio è così, così, ma non lo conoscono. Ma per camminare è necessaria quella inquietudine che lo stesso Dio ha messo nel nostro cuore e che ti porta avanti a cercarlo. Nel Vangelo Gesù incontra gente che ha paura di mettersi in cammino e che si conforma con una caricatura di Dio. è una falsa cartella di identità. Questi non inquieti hanno fatto tacere l'inquietudine del cuore, dipingono Dio con comandamenti e si dimenticano di Dio. Voi, trascurando il comandamento di Dio, osservate la tradizione degli uomini. e così si allontanano di Dio, non camminano verso Dio. E quando hanno un'insicurezza, inventano o fanno un altro comandamento. Grazie.